Hai mai visto la tua auto trasformarsi in un colabrodo a causa della grandine? Perché il 90% degli automobilisti teme le grandinate? Osservate come chicchi di grandine enormi trasformano questa Alfa Stelvio in un colabrodo. La vostra auto potrebbe sopravvivere alla forza della natura? Mettete un like se siete contenti che non sia la vostra macchina. Immagina di svegliarti una mattina e mentre guardi fuori dalla finestra noti che una tempesta di grandine si è abbattuta sulla tua auto. Quella che ieri era simbolo di libertà e avventura, oggi è ridotta a un mucchio di ammaccature e segni antiestetici. Le emozioni sono contrastanti. Frustazione, preoccupazione. Quanto costerà ripararla? Ci si interroga se ci sono ancora opzioni convenienti e quali sono le migliori carrozzerie. Ma non disperare, DGA Service Torino è qui per trasformare il tuo incubo in una storia di successo. Da oltre 50 anni, DGA Service è un punto di riferimento per chi ha bisogno di riparazioni d'auto. Con un team di esperti e attrezzatori all'avanguardia, siamo pronti a rispondere a qualsiasi esigenza. Ogni ammaccatura racconta una storia e noi siamo qui per scrivere un nuovo capitolo. Che si tratti di un piccolo danno o di un intervento più complesso, il nostro obiettivo è riportare le auto alla loro bellezza originale. La nostra officina è autorizzata per i marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, garantendo un servizio di qualità e professionalità. Dopo un lavoro accurato e appassionato, l'auto è tornata come nuova. Per noi non è solo una riparazione, è il nostro impegno a rendere i clienti soddisfatti. Siamo orgogliosi di ogni auto che ripariamo perché sappiamo che ogni riparazione rappresenta la fiducia dei nostri clienti. Se anche tu hai subito dei danni da grandine, non esitare. Contattaci oggi stesso e scopri come possiamo aiutarti a riportare la tua auto come nuova. Continuate a seguirci su tutti i nostri canali social, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube stesso, per aggiornamenti ed offerte sul mondo delle auto. Da Dario il Videomaker è tutto, ci vediamo giovedì prossimo sempre alle ore 21 sul nostro canale YouTube di DGA Service Torino. Alla prossima, ciao! Alla prossima, ciao!